La popolazione di Piacenza è sempre più anziana, a testimoniarlo sono i numeri. Le pensionate di pensionati sono il 36,3% della popolazione, contro un dato medio nazionale pari al 29,7%, seconda in Emilia dopo Ferrara. Si tratta di due province molto deboli sotto il profilo economico e reddito pro capite. A Piacenza i pensionati sono circa 87.000, le pensioni erogate a vario titolo, la maggior parte a fronte di contributi versati, sono 127.000. Calcolando un valore medio di pensioni di circa 865 euro, si può scoprire facilmente che ogni anno a Piacenza le pensioni generano una ricchezza pari a 1.428.115.000 euro. Una parte rilevante, circa 300 milioni di euro, sarà destinata in imposte statali, una parte significativa in tasse locali e regionali. Il resto destinato all'acquisto di beni di prima necessità e dalla casa, all'acquisto di servizi sociali, farmaci e prestazioni sanitarie, alla compartecipazione delle pensionate e pensionati e delle loro famiglie, alla copertura dei costi delle rette dei servizi sociali e sociosanitari, ai ticket in sanità e dei farmaci non più erogabili dal sistema sanitario nazionale. Il grido d'allarme arriva direttamente da CGL e Cisle Wille, che hanno messo nero su bianco un vero e proprio manifesto rivolto alle amministrazioni comunali, perché i pensionati, che dovrebbero essere considerati una ricchezza, sono tutt'altro che ricchi e molti di loro faticano ad arrivare alla fine del mese e le risorse messe a loro disposizione sono sempre più scarse. In particolare si rende necessario un approccio diverso ai bisogni emersi che stanno emergendo, a seconda che le persone siano autosufficienti, parzialmente non autosufficienti, completamente non autosufficienti ed in condizioni di grave fragilità. Secondo i sindacati bisogna invertire la tendenza e tornare ad investire risorse in servizi aiuti anche alle famiglie che consentono agli anziani di rimanere a vivere nelle loro case, potenziando l'assistenza domiciliare nelle sue varie forme. Inoltre, in attesa che sia meglio chiarito il tema della costruzione di un nuovo ospedale, i sindacati chiedono che venga completato il processo di innovazione e riorganizzazione della rete ospedaliera piacentina.